benvenuti sul mio canale caramica oggi vi mostro lo scialle con il punto strega me l'avete chiesto in tantissime è un punto simpatico da lavorare ma molte volte hanno il problema di come si realizzano e come quanto ha tirato il filo per realizzare il punto ma vi dico che questo poi lo decidete voi è un qualcosa di semplice da lavorare ho scelto lo scialle perché possiamo anche utilizzarlo come pareo per cui adesso con l'estate è simpatico da utilizzare come vedete abbassa non è grandissimo lo devo ancora ancora finire ma vedete con poco si realizza e poi occupa pochissimo spazio anche come un bellissimo pareo allora prima di iniziare il tutorial vi mostro il filato che ho scelto scelto questo meraviglioso filato sapete che amo questo filato è lo zefiro lux questo è il verde vi dico la composizione il 54 per cento di cotone il 36 per cento viscosa il 10 per cento di poliamide sono 200 grammi a rocca 640 metri per cui veramente ha un'ottima un'ottima resa e consigliano come uncinetto dal 3 al 4 io vado utilizzare il 4 questo il color verde come vedete il lurex è fantastico poi un filato che adoro e adesso andiamo a vedere inizio il progetto anche con il nero in maniera di far rivedere anche una variante di colore ma sul sito di filati discount insomma ci sono tantissimi colori da poter scegliere per questa estate favolosa allora iniziamo il progetto per iniziare lo shell iniziamo dalla punta realizziamo un nodo una catenella una seconda catenella entro nella prima catenella che abbiamo realizzato e realizza una maglia bassa e questo è il nostro primo punto ora dobbiamo realizzare come vedete questa maglia allungata cosa facciamo andiamo ci sono due metodi per andare a realizzarla questa poi in base a come preferiti io di solito prendo direttamente il filo lo vado ad allungare parto da sotto lo allungo circa di un centimetro e mezzo questo in base da come vi piace è lungo questo dipende anche dal filato allora lo vado a bloccare con l'indice lo faccio passare rientro sulla sulla solina vedete eccola qui prendo il filo e realizza una maglia bassa e abbiamo fatto il primo prendo il filo da sotto non andata a bloccare sopra perché il filo poi non passa vedete se io lo blocco sotto il filo scivola poi specialmente questo scivola tranquillamente lo blocco così mi porta avanti con il pollice lo passo sulla sola e dentro vado a prendere il filo e realizzo una maglia bassa prendo il filo e tiro lo blocco lo blocco lo faccio passare entro sulla sola in questo modo eccolo qui e maglia bassa in questa e ne abbiamo realizzati 1 2 3 andiamo a realizzare il quarto posso prenderlo dopo il filo questo dipende da come vi piace di più lavorare fate delle prove e vado a chiudere adesso vado a chiudere sulla prima maglia una maglia bassa abbiamo realizzate 4 abbiamo creato come un anello adesso come vedete qui dalla parte bassa che è un anello andiamo a lavorare 123 e andiamo a chiudere per cui possiamo prendere subito il filo andare a tirare cerchiamo di fare le asole della stessa misura anche da sopra tiro e poi prendo il filo passo entro sulla sola tiro e maglia ancora e ne abbiamo realizzate 3 ecco qui bene 1 2 3 adesso sul primo nodino che è questo il primo nodino entro con l'uncinetto nelle due asole ne vedete eccole qui maglia bassa come vedete 1 2 3 siamo andati a chiudere sul primo nodino adesso vado a realizzare possiamo prendere subito il filo oppure tiro e poi prendo il filo questo sempre come preferite poi anche dal filato è filato è molto importante allora vado a chiudere e questo qui è il primo vado prendo il filo oppure lo trascino dall'inizio io vi faccio vedere sempre diversi modi in maniera per chi non ha mai fatto questo punto sa che ci sono delle varianti io passo piano piano ecco qui allora qui abbiamo fatto queste sono le quattro soli nena e contiamo 1 2 3 4 quelle che abbiamo realizzato e questo è l'inizio che abbiamo chiuso io qui ne ho fatte due perché la terza che andiamo a realizzare la realizziamo con una tripla maglia alta per cui 3 a soli ne vedete tre volte il filo sull'uncinetto vado sul nodo successivo che è questo a cui fine un attimino entro sul nodo posso e vado a realizzare su 2 su 2 e su 2 e vado a chiudere ci troviamo adesso come lavoro come vedete abbiamo iniziato ora cosa facciamo andiamo a girare il lavoro vado a tirare il filo e lo faccio passare e vado sempre come inizio l'inizio sempre di tre a soli ne io li chiamo soli ne tre tre punti insomma della pure le tre maglie basse allungate come le vogliamo chiamare vado e chiudo ecco qui ne ho realizzate 33 sempre all'inizio e sul primo nodo che a questo entro vado a lavorare una maglia bassa ora di nuovo mi vado a lavorare due cui tutta la parte che noi andiamo a lavorare centrale dobbiamo lavorare due due vado sul nodo successivo maglia bassa adesso che devo andare a chiudere la chiusura sono sempre due ma poi c'è la tripla maglia alta per cui faccio la prima faccio la seconda qui e vado a realizzare la terza ma la terza e la tripla maglia alta con noi andiamo a chiudere dalla parte con la tripla maglia altissima eccolo qua entro sempre nel nodo successivo e vado a chiudere su due su due su due e chiudo se vi faccio vedere come si presenta vedete bellissimo anche questo colore che è fantastico mi dico che il colore nero è veramente bellissimo molto molto bello anche il nero che sembra un nero argento bellissimo questo colore bellissimo allora adesso come si inizia di nuovo con tre per cui tre all'inizio sempre due 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 alla fine sono due con tripla maglia alta facile poi andiamo a vedere ancora l'inizio l'inizio lo facciamo così ci passiamo il filo in avanti tiro su e vado con il primo tiro posso anche prenderlo dopo vi ho detto che scegliete voi il modo di come lavorare questo punto 2 2 e 3 il cuore inizio è sempre 3 primo nodo eccolo maglia bassa e adesso andiamo a lavorare sempre due però quando abbiamo il due non è il primo nodo lo saltiamo e andiamo in quello centrale mi raccomando che dobbiamo comunque andare a lavorare per quel primo nodo lo lavoriamo perché ci dobbiamo allargare e dobbiamo fare come un aumento no per cui c'è un aumento ma alla parte centrale dobbiamo andare non in quello successivo ma quello dopo e sono due adesso vado in quello non questo centrale ma quello che c'è non vedete ve lo faccio vedere vedete qui vado qui ma qui è normale per cui al secondo modo ancora due vado al secondo nodo perché non è questo ma è questo e adesso andiamo a chiudere per chiudere dobbiamo realizzarne due sempre e vado a chiudere con la tripla maglia alta riporto il filo sull'uncinetto 2 2 2 2 e chiudo andiamo a vedere tolgo il filo come vedete è facilissimo l'unica cosa che vi dovete ricordare che quando iniziamo sono sempre tre tre asoline andiamo sul nodo successivo realizziamo due saltiamo ovviamente quello centrale il secondo nodo ovviamente quello parallelo poi due proseguiamo fino ad arrivare alla fine alla fine sono due con tripla maglia alta facilissimo come vedete super facile non è difficile da realizzare a questo effetto morbidissimo con questo filato che ha cotone e viscosa è veramente spettacolare morbido e velocissimo da lavorare infatti anche questo verde che è fantastico adesso lo vado a terminare piano piano come vedete ha molta luce ed è molto morbido per cui sia da tenere sulle spalle ma anche come pareo è fantastico potete scegliere sicuramente altri colori che vi piacciono in base a quest'estate ognuno di noi ha un colore diverso ogni estate che passa per cui questo verde mi piace tantissimo ma è bello anche il nero allora io vi saluto spero che in questo tutorial questo classico di questo punto strega che mi avete chiesto in tantissime sono contenta di averlo realizzato per tutte voi se volete potete seguirmi su instagram sempre luna dolci riflessi o anche il gruppo dolci riflessi su facebook vi lascio anche le indicazioni per il blog che ci sono sempre tantissime novità vi saluto un bacione a tutti ci vediamo ai prossimi tutorial grazie